salve bentornati alle collezioni lego dove andiamo a vedere le vostre collezioni questa splendida community vi ricordo che potete mandare le vostre cinque foto non di più a vitojuvara chiocciola gmail.com possibilmente vi prego anzi di indicare il nome che volete sia utilizzato partiamo dunque oggi da davide che ci mostra la sua collezione eccola qua allora vediamo intanto ha una strada della libertà architecture che non ho visto tantissime volte un bonsai che invece ci avete in tantissimi doppio guanto oggi capiterà più volte insieme a dei fanco e questa cosa è ricorrente cioè avete un sacco di chi hai lego anche dei fanco qui abbiamo due minifigure della serie disney vi ricordo che quest'anno ci saranno ci dovrebbe uscire un'altra serie in realtà è sicuro qui abbiamo la serie di game of thrones che non finirà mai e poi abbiamo una roba del milan immagino con una sciarpa dell'ajax poi vediamo un po qui abbiamo ancora fanco insieme a big cats quindi si sposano benissimo un settino piccolino di harry potter messi così su una no questo è il mobile in alto credo di quello che abbiamo visto prima su una libreria forse non su un comò ci stanno ci stanno assolutamente qui abbiamo ancora roba di harry potter quindi c'è il grande amore per harry potter da parte di davide assolutamente un treno di quelli un po più piccolino e un night bus che ricordiamo anche questo uscirà quest'anno in versione invece da 160 euro di cui sono molto curioso qui abbiamo una serie di animaletti da harry potter quindi abbiamo la fenice edvige sono carini messi tutti e tre insieme così eh il primo non ho capito bene cosa sia non mi ricordavo neanche che ne fossero usciti tre in questo modo secondo me fenice edvige fantastici insieme questo è un po più fuori posto ma è sempre roba di harry potter però vedi è proprio diverso non c'è l'omino non c'è la roba questi qua sono simpatici da mettere uno vicino all'altro assolutamente ci sta comunque bella l'idea di metterli vicini tutti e tre qui abbiamo un dettaglio completo della collezione qui c'è anche una roba sotto che è un altro piccolo set di harry potter praticamente tutto a tema harry potter questa collezione grandissimo davide in una libreria ben esposta nulla da dire ringraziamo davide per averci mandato la sua collezione poi passiamo a successivo gaggiale da padova ok io le sto rivedendo con voi perché non me le ricordo che è una stanza super piena di roba qui ho visto una cosa che non capisco che voglio assolutamente darmi a fare gli affari miei non è una roba lego ma è tipo una pietra poi abbiamo un set spaziale qualche technics un bellissimo titanic esposto molto bene su sto pianoforte sembra fatto apposta un ponte di londra messo in alto un van gogh sul muro credo che qui ci poi ci siano altre foto nel dettaglio vediamo se non ci ritorniamo sul quadro complessivo qui abbiamo di nuovo i due guanti esposti però con arroganza proprio e ma sydney operhouse molto 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 sacrificata con la esposta in questo modo tra l'altro anche distrutta poi c'è qualcosa che è andato rotto mi spiace per la sydney operhouse che è un bellissimo set però credo che manchino anche un po d'alberelli di cose a noi lampioncini eccoli non mi ricordo è un bellissimo set peccato così esposto si perde veramente un po troppo eccolo un dettaglio vedete anche qui torna mi fanco ora quanto sono belli technics mamma mia guarda che meraviglia allora andiamoci a spulciare invece quest'altra libreria abbiamo delle navi ma non sono lego non so se questa dietro è una roba lego forse sì queste due no poi abbiamo il saturn 5 abbiamo tutto il tema spaziale misto un po qui un po lava c'è tutto secondo me abbiamo il collo lungo io devo aggiustare le gambe se sono spostate non riesco a rimetterle in posizione e poi cosa guardiamo qua qui abbiamo delle robe tipo sorpresine kinder delle robe lego che non riconosco qua sotto sicuramente mi aiuterete voi roba di videogiochi bravo ricordiamo che ci abbiamo anche su twitch se faccio parliamo anche soprattutto di videogiochi e guarda che bella questo spider-man messo a buffo qua tra una libreria e l'altro da un libiano all'altro molto bello nerd tutto dondo è manga insomma completo di tutto qui vabbè questo è proprio troppi cazzi suoi non lo facciamo c'è anche un poster di nome sky una limited edition di uncharted 4 tanta roba vabbè andiamo a vederla ancora meglio questo non riesco proprio a riconoscerlo e cosa vediamo di figo che posso vedere qui in mezzo farmi gli affari mie questa roba dello scarpino è bellissima sarà un premio di lui giocatore qui ci abbiamo altri tecniche un po più piccolini comunque sempre simpatici questa è la stazione spaziale sì e vedi ce ne ha proprio tutti i set spaziali tranne forse il primo cuso che è introvabile vale 70 miliardi qui vediamo bene la parte del titanic vero sto pianoforte è perfetto per l'isposizione del titanic il van gogh l'ha messo con con van gogh così io l'ho tolto perché se no sarebbe sempre per terra troppo troppo ingombrante sta roba devo dire che come esposizione la grande onda funziona meglio questo era un libro che con degli omaggi ce l'ho anch'io mani scatola e poi lui piace mischiare le cose vedete spiderman nel ponte con capitano america e varie cose buttate lì e questa è una roba lego fighissima questa l'ha fatta lui secondo me ed è splendida perché c'è un gatto chissà se è il suo gatto se l'ha fatto per il suo gatto è una roba meravigliosa comunque c'è del talento artistico non è facile fare sta roba anche gli occhi vedete sono fatti di pezzi lego è figa sta roba all'inizio non sembrava pensavo fosse un quadretto messo là guarda che meraviglia bravo se l'hai fatta tu assolutamente bravissimo quindi gagiale grazie anche a te passiamo adesso alla terza collezione di oggi lorenzo cioffi che ci mostra una roba molto più ordinata e pulita qui abbiamo tipo in cassaforte le due supercar la sian e la dottona che sono fantastico guarda sta dottona da qui che forme c'ha questi cerchioni che roba qui abbiamo una ducati una ducati che però vedo anche che c'ha sta robina qui che è simpaticissima col semaforino però non so non credo faccia parte del set anzi ne sono abbastanza sicuro figo qui abbiamo ancora della bella collezione abbiamo un technics tanta roba di star wars tra cui nel metto che soffre la polvere peggio di me ok tutte le minifigure queste alte le action figure diciamo di star wars a me non sono mai piaciute e poi dei set messi però vedi è tema c'è la brichettes col kailoren con la sua nave si polvere stai peggio di me nettamente qui abbiamo invece questo set che non riesco a riconoscere ma credo sia una roba non ufficiale lego perché si è una nave da guerra questo è un y wing un po' più piccolino forse perché non sono i due ucs non li riconosco ucs e queste gambe secondo me gliele fa lui non credo sia esposta così l'ha fatta lui per esporre a me queste cose piace di questa serie vedere come vi arrovellate per risolvere i problemi figo guarda questa qua tra l'altro che sta appesa così e l'ha appesa al caccia che sta sopra caccia stupendo tra l'altro qui abbiamo ancora star wars che sono di fianco all'altro sto facendo i cazzi miei questo è carinissimo qui abbiamo delle minifigure delle minirobbe di star wars la roba per pulire l'aria è un problema di tutti noi questo attiretino lo riconosco figo così nero pazzo super da guerra tante minifigure di star wars con un bellissimo caloreno guarda che meraviglia dovrebbero fare la nave questa qui questa dovrebbero farla di ucs non vedo l'ora intanto quest'anno deve uscire uno da 2.50 speriamo sia una roba perché si sette da 800 hanno pure un po' rotti i coglioni questo è bello non so se sia custom o se è un set che non conosco io ma è veramente figo qui invece abbiamo il robottino bd1 carinissimo secondo me è proprio perfetto per quello che deve fare qualche sette un po' più piccolino guarda che simpatico sto squaletto col granchio un gufino e un pappagallino è una bellissima orchidea orchidea di piante ne vedo meno di quanto credessi nelle vostre collezioni però è uno dei pochi sette col vaso fatto di lego che secondo me fa proprio tutta la differenza del mondo è vero che si sette sono un po' più belli in foto che dal vivo però è una bella collezione questa delle piante nulla da dire proprio apprezziamo più c'ha delle penne pronte per scrivere perché studia il nostro amico Lorenzo abbiamo visto tutto passiamo alla quarta collezione che è Luca Rapisanda Rapisarda scusate eccola qua Luca Rapisarda ha un botto di miliardi di cose non c'ha tantissimo spazio non gliene frega un cazzo e butta tutto in mezzo io gradisco anche questo non sono di quelli che criticano l'isposizione, le teche è figo se uno c'ha voglia di montare e si arrangia un po' tra l'altro la parte della città è venuta benissimo con tutte le macchine vedete città qualche modulare qualche roba di Lego City fatta ad angolo con le macchine riconosciamo delle Speed Champions più o meno tutte recenti c'è finito sotto adesso questo treno delle Speed Champions probabilmente morirà come tutti noi sommerso da quelle qui abbiamo una Vespa qua dietro una serie di minifigure pazze che non riconosco c'è della roba semplice ma credo sia mischiato un po' di tutto però un raccoglitore che ha avuto lui questa c'è la Dodge Technic qui ci sono delle scatole alla sua sinistra con Lego Dimension che qui in mezzo non vedo però Lego Dimension mamma mia quanti ne ho comprati io ho comprato praticamente tutto di Lego Dimension tutti i set grandi e anche qualcuno collaterale oltre a aver giocato tutti i capitoli del videogioco e non era ancora impazzito con Lego questo è l'altro lato del mobile vedete qua continua la città figa sotto c'è un po' di Technics qui abbiamo l'Edwidge piccolina con un settino di Harry Potter uno scaffalone pieno di roba con dietro anche i poster del Lego cioè proprio terza parte del mobile abbiamo il T1 abbiamo il Central Park il Central Park scusate abbiamo il Fabbro Medievale abbiamo questo che non me lo ricordo sarà un Architettor un paio di Architettor Lego questo me lo ricordo questo meno due belle macchine Technic qualche minifigure questo Homer Simpson non lo riconosco sinceramente non fa parte delle due serie una roba che si è costruito probabilmente lui qui abbiamo questa ingranaggio non so cosa sia qui abbiamo della roba Nego Dimension andiamoci a vedere sì c'è un bellissimo aeroplano con l'aeroporto che è costruito proprio il suo dio ramone della città vedete qua sotto c'è anche la roba di macchinine navi eccetera 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 qui abbiamo un quadro completo che dice che sa per comprare un altro scaffale perché questo non gli basta più questo cos'è? non è picciona di cos'è? non riesco a vederlo ma è una roba Lego dalla scatola è Lego Lego 3844 poi me lo vado a studiare me la sono persa questa vabbè vediamo se riusciamo a vedere altre cose qui vediamo un bellissimo aereo quello uscito recentemente l'elicottero famoso quello di salvataggio bellissimo qualche brichezza ancora qualche tecnica tanta tanta roba non proprio ordinalissima ma sti cazzi uno fa quello che può qui abbiamo il satul 5 bellissimo bello bello sì una volta tanta passione per il Lego secondo me di brutto in questa collezione di dire faccio prendo quello che posso e lo metto dove cazzo voglio mi piace mi piace anche questo bellissimo anche la collezione di Luca chiudiamo oggi con la collezione di Nicola che invece è un po' un precisetti ed è esposto tutto in modo della madonna fighissimo naturalmente non sono critico qui abbiamo una morte nera che però lui ha ripulito della roba di pupazzini diorama ed è venuta fighissima esposta così guardate che illuminazione un paio di navi di contorno le minifigure tutte sotto in questa armadietto insomma perfetto secondo me a livello espositivo bellissimo falcon ancora perfetto cioè questo è proprio un museo un museo guardate anche qua questa targhetta per esempio credo l'abbia fatta lui ah no c'è la targhetta per reggere questo set qua madonna le fanno anche per questi set più piccoli questa per il falcon bella esposta qua si vedono un paio di cavi se proprio devo dire che si possono un po' nascondere meglio qui abbiamo invece fuori dalle teche la roba spaziale Saturn V in verticale Saturn V l'abbiamo comprato in tantissime poi abbiamo lo Space Shuttle qui ancora una roba di Star Wars esposta benissimo un Razor Crest una Slave One un Mix Wing con tutta la basetta le minifigure veramente bello a livello espositivo queste teche e soprattutto illuminate della Madonna super lavoro qui invece abbiamo un'altra vettinetta in cui mostra che la passione è un po' generalizzata a tutto qui abbiamo un sacco di Marvel non riconosco le minifigure le action figure le statue le toys figure quello che sono perché non sono esattamente un patito una cosa importante intanto abbiamo il castello Disney figo e la Milano che io non ho preso perché non c'aveva la targhetta altrimenti l'avrei presa anch'io se me la fanno più grossa con la targhetta è fatta ma soprattutto abbiamo questo set qua che non ce l'avete in tantissimi ce l'ho anch'io l'Elicardier che è una delle robe grosse Marvel che hanno fatto con targhetta diciamo UCS e poi l'hanno un po' mollata là mentre dietro si vede anche la torre degli Avengers appesa non so bene dove a questo cos'è una spada un bastone una spada minchia e dove l'ha appesa la torre degli Avengers però bella bella anche questa vetinetta bellissima questa lampada e uno bellissimo scudo degli Avengers sul muro tutto figo tutto figo assolutamente l'Elicardier è credo sia il primo il secondo che vediamo non credo abbia venduto questo sfracelo ecco perché non hanno fatto questi grandi set Marvel signori io direi che anche con oggi è tutto vi ricordo che facciamo da un paio di episodi 5 partecipanti ad episodio per farli più velocemente per dare più spazi a tutti potete mandare le vostre collezioni a videoiovara a chiocciola gmail.com non mancate fatemi sapere se questo format continua a piacervi noi ci vediamo prossimamente continuerò con le recensioni dell'Espit Champion negli short e poi dobbiamo fare un paio di classifiche su magari proprio le Speed Champions su sicuramente su i set UCS di Star Wars e vedremo nel tempo ciao a tutti alla prossima ск Off . . . . . Grazie a tutti